Il contenuto di questo messaggio è confidenziale, ed esprime l'opinione collettiva di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Tutti gli attivisti sono ispirati da lealtà e onestà intellettuale, ed il desiderio di tutti gli attivisti è che la lealtà e l'onestà intellettuale ispiri i nostri cittadini eletti, che ci rappresentano nelle istituzioni. Gesù disse chiaramente che il tradimento è nell'indole dell'uomo, nella migliore delle ipotesi, uno su dodici è traditore e questo traditore verrà per sempre ricordato come Giuda traditore e l'infamia sarà la sua peggior condanna. Il Movimento 5 Stelle si ispira ai principi di democrazia diretta, questo significa che gli elettori nominano dei propri rappresentanti i quali si obbligano moralmente a divenire degli esecutori materiali del proprio elettorato. Il sistema di democrazia diretta non dà margine agli inciuci, i cittadini eletti rinunciano ad azioni personali, favorendo invece azioni collettive prese in concertazione con il proprio elettorato. La democrazia diretta è l'unica che risulti essere in sintonia con l'articolo 1 della Costituzione il quale sancisce che il popolo è sovrano. L'elettorato del Movimento 5 Stelle ribadisce la propria indignazione nei confronti dei dissidenti, ai quali viene ufficialmente chiesto di dimettersi a favore di altri attivisti che fremono dal desiderio di poter apportare il proprio servizio a favore della collettività. La Costituzione sancisce che i parlamentari non hanno alcun vincolo di mandato, quindi una volta che questi non rappresentino più il proprio elettorato, si debbono dimettere, non essendo più vincolati a rimanere. Tutto il vostro elettorato è pronto a mettervi all'agogna mediatica nel caso che per venialità o per ambizioni personali prenderete la decisione di rimanere incollati al vostro cadreghino dentro le istituzioni. Non avete più alcun vincolo di mandato, fate una scelta saggia e dimettetevi, eviterete di essere ricordati come dei luridi malfattori, senza peraltro aver ottenuto nulla perché alla prossima tornata elettorale la vostra carriera sarà stroncata. Distruggete questo messaggio. Diviano, la sicurezza di ciò che fa migliare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!